Che cosa sta succedendo a questo Pescara, soprattutto nel secondo tempo? Sta succedendo che noi in qualsiasi caso cerchiamo di dare il massimo fino alla fine, come si è visto anche oggi. Ci è riuscito meno di altre partite dove l'abbiamo ribaltata, questa volta abbiamo recuperato il risultato, si è stati di nuovo recuperati. Dobbiamo migliorare su questo, penso che non stia scoprendo niente, però da parte nostra c'è impegno, c'è voglia, c'è voglia di riscatto, c'è voglia di far bene perché abbiamo potenziale, possiamo far benissimo e ne sono sconvinto. Nel secondo tempo abbiamo visto una squadra spenta, dal campo hai avuto la stessa sensazione? No, ho visto la sensazione del fatto che noi vogliamo cercare di far bene, a volte ci riesce meglio come è successo altre volte, come abbiamo dimostrato. A volte ci riesce meno peggio, meno bene come abbiamo dimostrato oggi e alla fine il risultato è quello che è. Impariamo da questo risultato qua e cerchiamo di fare meglio nelle prossime partite perché riusciamo a far sicuramente meglio di così e riusciremo a far sicuramente meglio. Ti chiedo l'ultima cosa però, due scontri diretti in casa, due sconfitte, se con la Reggiana c'era il grande e giustificato alibi delle decisioni arbitrali, questa sera il Modena ha meritato soprattutto per come ha concretizzato poi il vantaggio? Sì, il Modena avrà meritato, io ti ripeto quello che ti ho detto prima, che noi comunque cerchiamo di dare il massimo in qualsiasi situazione e l'abbiamo fatto anche oggi, meno bene rispetto alle altre volte ma l'abbiamo fatto anche oggi.